Eccoci qui come state, ritrovati, un saluto a tutti, di nuovo una buona giornata, buon pranzo, chi sta per pranzare o chi ha già pranzato, se vedete questo video un po' più tardi, buon pomeriggio, insomma buon Milan che stasera gioca, ci vediamo subito poi dopo la partita, ma prima anche nel tardo pomeriggio per un altro aggiornamento importante, dopo partita ci sarò io a commentare, speriamo una bella vittoria contro la Lazio. Vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto, a lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, siamo quasi 105.000, mamma mia quanti, iscrivetevi anche al mio canale personale, vi metto qui sotto il link, c'è anche il nuovo progetto di Spoti, seguiteci anche lì in collaborazione con Mirko Palo e seguiteci su Instagram perché da settimana prossima, quindi tra qualche giorno, parte il nuovo progetto su Milanello di Instagram. Instagram appunto e quindi anche lì ci scateneremo con una nuova linea e tabella editoriale, definiamola così. Allora ragazzi, andiamo subito perché ci sono tante novità. Allora, partiamo da che cosa? Per stasera, beh dai, la partita non bisogna sottovalutarla, anche se la Lazio non sembra sul pezzo, segnali di rotture evidenti tra Sarri, dovrebbe essere l'ultimo anno la Lazio e l'Otito, hanno però la Champions Martedì, vediamo un po' quali saranno le evoluzioni. Ma veniamo a noi perché ci sono tante, 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 tante novità e sono, devo dire, succose, succose, gustose. Faccio presente una cosa, ecco, che le interviste che ha rilasciato Cardinale al Corriere dello Sport e al Corsera sono, come si dice in gergo, da zero a zero. Non ha detto nulla di importante, invece poi a Calcio e Finanza e nella fattispecie ieri al Forum a Londra, insomma, ha detto cose molto importanti. Quindi andiamo subito ad analizzare, ci sono anche ulteriori sviluppi. Innanzitutto, ecco, il punto fondamentale, il primo punto fondamentale e che avevamo in parte anche ipotizzato, anche se questo concetto non era stato spiegato benissimo, è il ruolo di Zlatan Ibrahimovic e il possibile futuro di Giorgio Furlani. Perché ieri il nostro proprietario cardinale a Londra ha detto su Zlatan Ibrahimovic, è il mio proxy, ha detto, a Milano, mi permette di essere a New York, ha l'autorità di essere la mia voce con i giocatori, con lo staff, con chiunque a casa Milan. Quindi è il suo braccio destro, ma è il numero uno operativo al Milan. Cioè, dopo Cardinale lui è il numero uno, quindi potete definirlo il numero due, sì, ma è sicuramente sopra nelle gerarchie rispetto a Furlani. E dicevamo, se fosse stato contento di Furlani non avrebbe messo Ibrahimovic. Se mette Ibrahimovic è perché lo mette sopra ed evidentemente scala nelle gerarchie Furlani. Quindi, lo dice in maniera evidente, senza neanche un po' di diplomazia, giri di parole, con chiunque a casa Milan lui può dire e può parlare, cioè comanda con chiunque a casa Milan. E a casa Milan c'è, ovviamente, anche Furlani. Che pensate, nel forum non è stato nemmeno nominato, ed è comunque la di del Milan. E pensate, era in platea, era arrivato apposta in platea e assistito al tutto. Credo che non ne sia uscito esattamente rinfrancato, almeno nel morale. Quindi comanda Ibra, comanda Ibra, e questo è il primo punto molto importante, anche in chiave poi allenatore. Ibra, che poi ha detto un altro aspetto, ha sottolineato Zlatan, cioè che ho tanto da imparare, ma non voglio fare cose normali, voglio fare la differenza. Così Ibra, che quindi sono belle parole al momento, servono i fatti, però non avevamo dubbi sulla voglia di vincere di Ibra, e quindi la voglia di non vivacchiare, ma di vincere. L'altro punto, quindi in quella frase c'è l'esaltazione di Ibra come ruolo, e c'è il ridimensionamento clamoroso di Giorgio Furlani, che ripeto, era in platea presente ad ascoltare. Oltre a questo, c'è poi un altro aspetto che ci fa capire che ci sarà una vera e propria rivoluzione, credo su più livelli. Tutto ciò che riguarda il Milan deve evolvere, tutto, dice. Tutto ciò che riguarda il Milan deve evolvere, guarderemo anche al personale. Non siamo soddisfatti degli infortuni. Io e Zlatan non siamo contenti che non siamo primi. Quindi, su tutti i livelli dei cambiamenti significa rivoluzione. Il fatto che si parli di personale degli infortuni, è chiaro che rimandi a Pioli. In questo senso, ragazzi, è impensabile che venga confermato Pioli e venga cambiato lo staff. Questo lo escludiamo. Quindi, questo è l'annuncio di un esonero. È l'annuncio anticipato di un esonero che arriverà tra due mesi e mezzo. Mi sembra chiaro ed evidente. Andando, di fatto, anche a sbugiardare quello che aveva detto Furlani tre settimane fa e Scaroni, anche i veri un mesetto fa, cioè siamo contenti di Pioli e il nostro allenatore. Cardinale, in questo caso, molto sincero, dice quello che pensa. E anche noi avevamo dato quella lettura a certe frasi. Non possono dire diversamente, cercano di dare forza al loro allenatore. Anche qui è evidente che non si potesse essere contenti di Pioli e Cardinale oggi, ripeto, preannuncia un prossimo esonero a fine stagione di Stefano Pioli. Il concetto degli infortuni, ecco, che sottolinea Cardinale, è una cartolina che dovremmo spedire a tutti quelli che... Eh, ma gli infortuni, cosa è? Ma perché fare degli infortuni? Ce li hanno tutti gli infortuni? È sfortuna gli infortuni? No. 35 infortuni non è sfortuna. Sono infortuni con delle responsabilità da debitare a Pioli e al suo staff. Allo staff e a Pioli, che ne fa capo e comunque condivide anche metodologie e preparazione. Quindi, una cartolina anche a chi diceva, ma no, dai, figurati, ma cosa dite? Gli infortuni? Eh? Ragazzi, mi raccomando, scegliete sempre bene anche voi. Detto questo, quindi si va verso un cambiamento. Poi approfondiremo chi sarà il nome del nuovo allenatore. Eh, c'è un altro aspetto, perché davvero è stata un'intervista, o meglio, una relazione molto, molto importante. Eh, il cambiamento dovrebbe riguardare, credo, anche Furlani, che non viene nemmeno nominato. E c'è questa possibilità che lui esca, sapete? Eh, questa ovviamente è una situazione in evoluzione. Di fatto, si lura Pioli, però fa capire che, diciamo, si lura il potere di Furlani e vediamo se resterà oppure no. Furlani, che è sempre più uscito dai radar, di fatto, se ci pensate, parla sempre meno. E ieri è stato ufficializzato il suo clamoroso ridimensionamento. Perché? Sono contento, perché per me non è un uomo dirigente da Milan. Sarà un bravissimo manager fuori, ma non è un bravissimo manager nel calcio. E questo mi sembra evidente. Poi, altri punti, attenzione, il concetto poi, lo vediamo, quindi tutto deve cambiare per il meglio, dice. Tutto, tutto. Quindi anche la dirigenza, quando pensa di personale, parla anche di quello. Poi, ripeto, nelle dichiarazioni assente Pioli, assente anche Furlani. E questo è molto, molto significativo. Gli viene chiesto poi se pensa a un'uscita dal calcio per Redbird. Cioè, magari un'uscita. Prima però sul tema stadio, un altro aspetto importante. È confermato, porteremo uno stadio in stile americano a Milano. Gli asset sono dei tifosi, io voglio dargli valore. Poi dice, potremmo fare anche gli stadi anche per gli altri. C'è questa possibilità di fare una società. Detto questo, pensiamo a noi. Dice, abbiamo fatto passi da gigante più di tutti in 11 anni, per quanto riguarda lo stadio. Quindi dice, nuovo stadio. Quindi dice, no, San Siro. A Milano, però. Non so se pensa a San Donato come comunque area a Milano. Gli asset sono dei tifosi, io voglio dargli valore. Detto questo, vediamo l'evoluzione sul tema stadio. Perché per fare lo stadio ha bisogno di chi finanzi lo stadio. Cioè, il gruppo arabo. Ok? A proposito di gruppo arabo, poi faremo uno sviluppo anche nelle prossime ore. Segnaliamo che ieri, poi, il cardinale di rientro dagli Emirati ha detto, pronti a una nuova fase di crescita per il club, con forte focus in Medio Oriente. Forte focus in Medio Oriente per una nuova fase importante del club. Tradotto, togliendo queste virgole, lo definirei anche politichese, cerca soci e finanziatori in Arabia. Cerca o ha trovato il Milan. Quindi, mi sembra anche questo un altro preannuncio che riguarda il mondo arabo. Chiedo scusa. Il preannuncio che entreranno denari arabi come finanziatori, barra soci, barra minoranza, barra maggioranza, questo lo vedremo. Però, ecco, direi, allacciamoci le cinture tutti, perché nel prossimo futuro del Milan, credo in tempi brevi, accadrà qualcosa di comunque importante. Importante o molto importante, lo vedremo strada facendo. Sul discorso legato anche a questo, c'è un altro aspetto, diciamo quella dell'exit, dell'uscita di Cardinale, di Redbird dal mondo calcio, quindi dal Milan. Per come la penso, l'uscita è trovare un modo per non uscirne. Un po' filosofia. Voglio trovare un modo per capitalizzare per i miei investitori e rimanere proprietario. Ci sono molte strade, ma non siamo minimamente vicini a una cosa del genere ora. Quindi, io, mi sembra un po' una supercazzola, no? Molto filosofica. Mentre in altre cose è stato molto pratico, concreto, in questo caso è un po' più generico. Do la mia interpretazione e poi voglio leggere ovviamente anche la vostra. A me sembra che dica l'uscita è uscire ma rimanere. Cioè il concetto, anche quando esco, voglio comunque rimanere. Proprietario. Come fai? La mia lettura è... Gli dici ci sono molte strade, no? La mia lettura è rimango avendo delle quote non sono proprietario effettivo ma potrei essere magari quello simbolico. cioè rimango nel Milan e porto avanti io il dossier stadio magari però mi dice trovare un modo per non uscirne. Che significa, ragazzi? Frase questa un po' molto sibillina, devo dire. modo per capitalizzare per i miei investitori rimanere proprietario. Cioè vi faccio guadagnare ma rimango proprietario. Quindi magari anche quando c'è lo stadio io sono proprietario ma voi guadagnate. Ragazzi, questo aspetto sinceramente è sibillino e non riesco a decifrarlo e mi appello, mi aggrappo a voi. Boh! Che cosa avrà voluto dire in questo caso? Sinceramente ecco si fa un po' fatica a comprendere. Di fatto però finalmente dice cose e il concetto del le cose non vanno bene è un concetto rosso-nero è un concetto aderente alla realtà non è una favola di chi vuole buttare fumo negli occhi. Ho trovato delle belle parole degli annunci di azioni giuste dalle parole bisogna passare ai fatti quindi ovviamente aspettiamo che il tutto si traduca in fatti e vediamo che cosa succede in questi prossimi mesi. Siamo a marzo marzo-aprile-maggio e poi c'è giugno secondo me in questi 3-4 mesi davvero ci saranno tante cose che accadranno e cambieranno di fatto lo ha detto anche cardinale a tutti i livelli le cose devono cambiare mi sembra ripeto un preannuncio dell'esonero di Pioli un ridimensionamento ufficiale clamoroso anche di Furlani che resto pure no questo lo vedremo strada facendo ditemi che cosa vi ha colpito di più e che lettura date anche a quella frase che non si capisce un granché almeno io commentate numerosi qui sotto lasciate un bel like iscrivetevi da questa parte vi rimando al video di questa mattina vi invito anche a iscrivervi a seguirci su spoty qui sotto c'è il link progetto con Mirko Palo che tra l'altro ha dato una notizia importante oggi sul suo canale youtube guardatelo e poi lo approfondiamo insieme anche nel prossimo video si parla di Colte a proposito dobbiamo parlare di Colte e gli altri tecnici nel prossimo video intorno alle ore 17 un abbraccio iscrivetevi anche al mio canale personale qui sotto c'è il link grazie a più tardi e che cosa avrà voluto dire?